l'amore non esiste si sta insieme solo per bisogno salve a tutti utenti di youtube da conoscitore italiano bella giornata di sole e questo già mi fa stare bene e non poco e in questo argomento di oggi vengo a parlarvi di un fatto spiacevole oggi sono pessimista con voi ma realmente interessante dunque 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 che cosa è l'amore l'amore in teoria è un sentimento che lega due persone ci sono due tipi di amore l'amore chiamiamolo platonico l'amore chiamiamolo sessuale e aggiungo anche una terza categoria l'amore chiamiamolo di natura etica quindi morale ora nei tempi attuali ripeto sottolineo nei tempi attuali nei tempi contemporanei mi dispiace dovervelo dire ma secondo la mia opinione questo amore o pseudo dare non esiste perché perché complice la crisi economica che dall'anno 2008 l'italia sta vivendo ci troviamo in una condizione in cui le persone non sanno più dove sbattere la testa mancanza di lavoro mancanza di occupazione situazioni negative e ostiche dal punto di vista economico di conseguenza ci si mette insieme per avere qualcuno a cui andare a succhiare tra virgolette i soldi la pecunia attenzione non sto generalizzando ma secondo me e secondo quello che vedo e nella maggior parte dei casi l'amore è questo il vero amore sapete qual è come già vi ho detto in tanti dei miei video è l'amore disinteressato io mi metto come una persona brutta schifosa dal punto di vista estetico e o povera perché amo quella persona quello è il vero amore invece ci avete fatto caso o no che oggi come oggi ci si fidanza ci si sposa con quello che è bello io comunque con quello o con quella che ha un bel lavoro alle spalle dietro io non ho mai visto un uomo una donna che si va a sposare uno squattrinato una squattrinata e o uno brutto o una brutta dal punto di vista estetico questo perché perché ci deve essere almeno una delle due condizioni condizio sulle quali bisogna insistere almeno una delle due deve essere soddisfatta o deve essere bello o bella o deve avere un posto di lavoro alle spalle e allora in quel caso lì io mi metto con quella persona altrimenti no non mi ci vado a mettere non ci vado a stare questo ovviamente significa che cosa significa che il deterioramento dei rapporti umani avviene però questa è realmente la realtà dei fatti perché basta vedere in giro per la strada no se uno è brutto magari c'è soldi se uno è bello magari non ha un lavoro o comunque è difficile trovare uno o una che abbia sia bellezza che il lavoro ok o sia sia lavoro che bellezza ok è diventata una sorta di chimera azzardo a dire ora il problema più grave qual è il problema più grave che oggi come oggi secondo la mia opinione l'amore non esiste l'amore è un'invenzione creata d'arte oggi il vero amore non esiste si chiama selezionare quella persona che possa fare il mio o il vostro porco comodo che possa andare a farmi stare bene dal punto di vista economico e o estetico questo quindi che significa che una persona si va a fidanzare con un'altra non perché prova questo sentimento ma perché magari dietro c'è un interesse ora qualcuno mi chiederà qual è l'interesse caro signor conoscitore italiano semplice in italia rigi la norma secondo cui nel momento in cui ti muore il coniuge o la coniuge tu di fatto di fatto ti vai a beccare ti vai a prendere lo la sua pensione chiamata pensione di reversibilità questo che significa che fin quando tu sei sposato anche quando quella persona è morta con quell'altra persona bene ti vai a separare bene tu ti vai a prendere se non ti vai a separare non ti vai a dividere i suoi soldi il suo avere economico questo quindi significa che cosa che ti vai a prendere i suoi soldi va bene questo ovviamente ha delle ripercussioni positive certo perché la persona si prende i soldi è giusto questo certo che è giusto perché se una persona tra virgoletta ma un'altra e quella persona muore è giusto che si prenda la pensione no però da un certo punto di vista lo trovo anche un comportamento forse un po' egoista egoistico azzardo a dire ma bene ma come ci si va a sposare allora perché si pensa questo molto spesso accade questo va bene quindi si si sposa con una persona perché si pensa alla reversibilità che quella persona de facto di fatto ti va a dare ti va a rilasciare così mi prendo la pensione quando egli muore quando ella muore ok ecco questo è un ragionamento che molte persone oggi come oggi fanno molte coppie non tutte per fortuna ma nella maggior parte dei casi questo ragionamento viene ad essere messo in pratica viene ad essere messo a frutto bene ora quindi nei tempi attuali nei tempi contemporanei l'amore secondo me non esiste il vero amore qual è il vero amore è quello secondo cui io non seleziono in base all'estetica e o ai beni materiali e o al lavoro che ha quella persona io mi metto con quella persona perché penso che quella persona mi piaccia ma non guardo l'estetica e o i soldi io in teoria mi dovrei mettere con una persona disabile brutta schifosaria l'estetico ma che mi piace magari per i suoi comportamenti per dire quello è il vero amore quello è il vero amore ragazzi ma non l'amore di oggi che se non è bello ma un lavoro mi ci metto però se è brutto e non ha un lavoro nemmeno mi ci metto ok oppure se è bellissima ed è anche sexy mi ci metto ok ecco questo non si chiama amore questo si chiama secondo me selezionare il migliore o la migliore e questo lo trovo assurdo come comportamento eppure oggi come oggi questo viene ad essere tenuto in considerazione fatevi un giro per roma per napoli per cagliari ma anche per i paesi di provincia non guardate in italia manca all'estero quello che succede come mai che sempre una o l'altra caratteristica viene ad essere soddisfatta eh fatevi una domanda e datevi una risposta come direbbe il buon gigi marzullo che saluto ciao gigi sei un mito sei un grande ecco detto questo e ripeto detto questo dal vostro conoscitore italiano è tutto questo video nasce per salvo maccarrone il quale poche serie fa salvo ha donato qualche euro in una mia live serare che vi invito a vedere quando faccio le live la sera perché salvo mi ha richiesto un video come questo perché secondo me salvo ha capito come gira la situazione oggi come girano le persone com'è la situazione attualmente parlando nell'ambito della vita e vi posso garantire che quello che io vedo ogni giorno per le strade mi fa capire troppe cose anche nei piccoli privati di provincia si capisce questo ok il bello piace la bella piace quello che non ha il lavoro non piace quella che è il lavoro piace ok ecco il vero amore è io mi prendo il brutto la brutta che non ha un lavoro perché mi piace quella persona voglio farle del bene voglio fargli del bene quello è il vero amore ma il selezione il bello la bella quello che è il lavoro quello che non ha il lavoro non si chiama di certo amore secondo la mia opinione sia ben chiaro ho espresso la mia opinione barra il mio punto di vista che secondo me è vero non dico sempre ma è vero nella maggior parte dei casi qui in italia ma anche all'estero nella maggior parte dei casi ma non sempre perché non voglio generalizzare quella che ho espresso nella mia opinione barra visione ognuno è libero e libera di pensare ciò che vuole viva il dio ma questo è quello che penso da conoscitore italiana è tutto un saluto caro iscrivetevi mi raccomando mettete su facebook su twitter su instagram dove tutti i social che voi tambro dove volete voi questo video fate arrivare lontano e almeno almeno 20 mi piace per arrivare ad avere in questo video di oggi ciao a tutti e grazie a salvo che ha richiesto questo video ciao